Marco Di Chio, gloria dell'Aquila Calcio, torna in Rosso Blu. Il settore giovanile della società del Gran Panorama, presieduto da Fabrizio Rossi, ha deciso di avviare una collaborazione ufficiale con il Folletto Rosso Blu, idolo indiscusso della tifoseria aquilana, per i suoi trascorsi nell'Aquila Calcio. Marco Di Chio torna come osservatore ufficiale del settore giovanile e si occuperà della zona del Lazio e del centro Italia. Il suo compito sarà quello di scovare talenti da portare in Rosso Blu. Intanto, sul fronte prima squadra, dopo la rinfrancante vittoria ottenuta nel derby contro il Teramo, ci si prepara la trasferta di sabato a Macerata. Potrebbe tornare a disposizione il difensore Simone Piva, migliorano le condizioni del centrale Giordano Maccarrone, mentre non si è allenato Vittorio Triarico, uscito malconcio dal campo, nell'ultima gara casalinga. Oggi allenamento mattutino per la truppa Rosso Blu di Mister Perrone, mentre giovedì pomeriggio alle 14.30 la squadra disputerà un amichevole sul campo di Villa Sant'Angelo contro la locale formazione.